Bene, oggi ci interesseremo di Antonio Canova. Antonio Canova nasce verso la fine del Settecento ed era quindi nel pieno clima neoclassico, se vogliamo dire. Ma diversamente dall'altro artista che abbiamo studiato, cioè il David, aveva un carattere totalmente diverso, era molto più schivo di David. Tanto è che quando Napoleone Bonaparte lo chiamò presso la sua corte per realizzare un ritratto della moglie e, visto l'abilità e le qualità del grande artista, lo invitò a rimanere a corte e lui rifiutò. Nonostante questo gli potesse dare molto prestigio, preferendo appunto rimanere nel proprio studio a Roma e, insomma, tra le sue sculture, tra quelle che lui chiamava le sue abitudini, in quanto a corte lui affermava non si sarebbe più sentito come quello che era, cioè un uomo semplice, dedito al proprio lavoro. Ecco, questo è un po' il ritratto di Antonio Canova, un carattere semplice e riservato, attaccato a Roma, Roma che era appunto la fonte di ispirazione per un artista come lui, neoclassico, appunto, che si ispirava all'arte classica, dove il luogo dove qualunque artista avrebbe voluto risiedere. Era il luogo dove c'era tutto quello che gli serviva per ispirarlo. E poi lui aveva la concezione dell'arte come, in qualche modo, ragione di vita per lui, ovviamente. Quindi un carattere semplice e riservato, dedito al lavoro, interamente al lavoro. Ma chi era Antonio Canova? Antonio Canova nasce praticamente nel 1757 a Possagno, che è una località nei pressi di Treviso, quindi in Veneto. L'apprendistato lo eseguì a Venezia, ovviamente, ed era figlio di uno scalpellino. Ma già intorno a poco più che ventenne fu chiamato, visto le qualità che aveva lui nel 75, quindi a poco più praticamente di 18 anni, insomma, aveva già aperto un suo studio personale, fu notato da un aristocratico, un certo Girolamo Zulian, che era ambasciatore della Repubblica Veneta a Roma e nel 79, quindi poco più che ventenne, lo chiamò a Roma. A Roma, praticamente, lui si stabilì e da allora, in qualche modo, non si spostò più da Roma stessa. Passò quasi l'intera vita a Roma, fatta eccezione solo per qualche viaggio che fece nella regione di origine, insomma, per vari motivi anche di natura personale ed altri viaggi all'estero. All'estero lui ha lavorato moltissimo, infatti ebbe un incarico in Austria, fece almeno due viaggi a Parigi, chiamato dallo stesso imperatore, e poi ancora un altro viaggio, sempre a Parigi, dopo il congresso di Vienna, quindi per la Repubblica Francese. Anzi, in questa occasione lui era in veste di ambasciatore papale per chiedere la restituzione delle opere che Napoleone precedentemente aveva sottratto. In quello stesso periodo, poi, da Parigi, lui si spostò anche a Londra, ma questo perché l'ambasciatore britannico Lord Elgin aveva prelevato i marmi di figlia del Partenone, le sculture, e lui, praticamente, volle andare a vederli. Quindi, quella fu l'occasione di essere a contatto direttamente con gli originali a cui tutto il suo lavoro era ispirato. Quella visita per Antonio Canova fu una conferma di quanto aveva elaborato e pensato nel tempo, perché lui riconobbe che i grandi maestri, quindi come figlia, praticamente, greci, innanzitutto avevano una grande tecnica, erano dei grandi imitatori della, quella che lui chiamava la bella natura, cioè rendere bella ancora di più ciò che l'occhio umano poteva vedere. Perché il suo pensiero, l'idea che lui aveva di un artista è che dovesse essere, innanzitutto, un grande osservatorio della natura e doveva imitarla quanto più precisa era possibile al fine di rendere poi quella cosiddetta bellezza ideale, cioè trasformare quindi ciò che l'occhio vedeva in un'idea di bellezza che solo nella mente dell'artista si poteva formare. In questo, ovviamente, doveva essere aiutato poi in una grande perizia tecchia, quindi un'abilità manuale fuori dal comune per poter poi realizzare effettivamente una vera e propria grande opera d'arte. Canova ha lavorato per moltissime grandi personalità ebbe molti incarichi di lavoro, innanzitutto dall'aristocrazia veneta e romana dove lui risiedeva. Poi, come abbiamo detto, ebbe incarichi da Napoleone e dalla sua famiglia, da aristocratici russi, da aristocratici e comunque committenti inglesi, da Jasburgo in Austria, dai Bourboni a Napoli e naturalmente dalla corte pontificia romana. Anzi, proprio per Roma, lui fu addirittura nel 1802 ebbe l'incarico di ispettore generale delle belle arti, proprio dello stato pontificio. Morì praticamente a Venezia poi nel 1822. Come abbiamo detto, quindi, alla fine del Settecento fu chiamato a Roma dall'ambasciatore Julian e la prima opera che realizzò a Roma fu proprio quella che noi stiamo osservando adesso, Teseo sul Minotauro. Un gruppo scultorio, praticamente, che fu concluso nel 1783. Dall'ambasciatore Julian passò poi di mano nel tempo e tanto è che la ritroviamo anche come sfondo di un ritratto di un aristocratico viennese. Questo a riprova della notorietà che subito ebbe quest'opera. Il gruppo scultorio sembra quasi essere la traduzione in pietra visibile delle teorie del Winckelmann di quando andava appunto affermando il Winckelmann negli stessi tempi. Infatti, della storia dell'uccisione del Minotauro da parte di Teseo, di tutta la storia, il Canova predilige un attimo, cioè praticamente rappresenta l'eroe Teseo che è seduto sul corpo del Minotauro dopo la lotta. Quindi il momento scelto da Canova è quello successivo all'azione. Il momento in cui qualunque passione ormai è sopita, rabbia, il furore del combattimento, eccetera, sono passati ormai. e proprio attraverso il rilassamento del corpo con la posizione appunto di riposo in cui viene rappresentato Teseo in qualche modo traspare poi l'animo eroico, la grande anima dell'eroe che in questa posizione di riposo evidentemente ci fa comprendere che anche il suo stato d'animo è in una situazione quindi di riposo e quindi in qualche modo in sintonia con il proprio corpo. Perché appunto il proprio corpo non è più né teso né contratto ma è appunto proprio rilassato come vedremo dalle linee morbide con cui appunto viene rappresentato e quindi ci fa comprendere che non è sicuramente più preda delle passioni. Qual è il senso più profondo? Se vogliamo l'insegnamento, l'intento pedagogico che come sappiamo è uno degli obiettivi dell'arte neoclassica è quella praticamente di indicare che la ragione vince sempre sulla irrazionalità bestiale insomma comunque che non fa parte dell'uomo secondo le concezioni appunto del tempo. Canova rappresenta quindi il minotauro disteso sopra una roccia e gli fa assumere una posizione ad esse è comunque una posizione che indica che il corpo è senza vita è riverso praticamente. Ora vediamo come Canova rappresenta Teseo in questa posizione appunto di riposo per darci questa sensazione di abbandono dopo la fatica. Appoggia la mano di 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 Teseo praticamente sulla gamba sinistra del mostro fa appoggiare quasi puntellando il corpo in questo modo il busto tende a inclinarsi verso dietro e in questa posizione Canova raffigura Teseo con la testa reclinata in basso mentre sta guardando appunto ciò che ha fatto sta guardando il nemico ucciso sotto di lui. Per quello che riguarda poi gli arti inferiori cioè le gambe una delle gambe di di Teseo è rappresentata raffigurata e inclinata ad angolo acuto piegata in qualche modo ad angolo acuto è una posizione anche di appoggio e la gamba appunto destra di Teseo oltre ad essere piegata ad angolo acuto come possiamo vedere è ruotata verso l'esterno tende ad aprirsi mentre la gamba sinistra è appena appena lievemente piegata in qualche modo è distesa poi abbiamo che il braccio sinistro mentre la gamba sinistra appunto è distesa il braccio sinistro invece è piegato ad angolo acuto è piegato ad angolo acuto e con la mano praticamente trattiene stringe la clava in questo modo diciamo che in qualche modo avvalora anche il piegamento del busto verso sinistra e la testa appunto che è reclinata in avanti in qualche modo ha realizzato quello che noi chiamiamo il chiasmo la gamba destra è piegata ad angolo acuto l'angolo il braccio sinistro è piegato ad angolo acuto mentre gli altri due arti quello superiore destro cioè il braccio destro e la gamba sinistra in contrapposizione sono invece distese e flesse e non stanno quindi in tensione il classico chiasmo o ponderazione proprio della scultura classica greca inoltre per dare maggiore compattezza e stabilità a tutta la figura di Teseo vediamo che tutto il corpo poggia su diversi punti a diversi punti di appoggio la mano destra e la mano sinistra i due piedi quello destro e quello sinistro e infine diciamo la parte tergale del corpo quindi sono cinque punti di appoggio e questo danno fondamentalmente avvalorano danno forza poi allo schema generale in cui ambedue i corpi sono inseriti c'è in quella struttura piramidale che era tanto cara specialmente agli artisti rinascimentali ad ogni modo ribadendo i concetti che abbiamo già espresso precedentemente lo scopo principale di Canova è quello di raggiungere quella che si chiama la bellezza ideale quella a cui i greci erano arrivati erano pervenuti e anche una bellezza che era stata seguita e perseguita e rincorsa dagli artisti del rinascimentale che cos'è la bellezza ideale un'idea di bello che è nella mente dell'artista il quale dopo aver osservato la natura che lo circonda non trovando niente che sia veramente perfetto si forma nella propria mente quella forma che lui considera perfetta quindi una bellezza dell'idea ovviamente per raggiungere questo scopo di raffigurare una bellezza ideale bisogna avere una grandissima padronanza tecnica quindi un'abilità manuale e questa secondo le idee ovviamente del neoclassicismo Diego Antonio Canova la si poteva soltanto raggiungere imitando al più possibile la scultura classica che era appunto quella considerata che aveva era riuscita a raggiungere questo scopo e Canova subito anche con questo gruppo scultore e con le altre sculture fu considerato appunto uno degli artisti che era stato capace di far ritornare la bellezza che era stata appunto seguita dai greci che per quello che riguarda i materiali che Canova utilizzerà lui utilizzerà quasi sempre il marmo considerando il marmo come il materiale migliore il materiale ideale per poter imitare l'elasticità della pelle e la morbidezza delle forme del corpo umano anzi proprio per dare maggiore verosimiglianza ad un corpo umano ad una pelle e alla pelle ai muscoli alla carne spesso le sue opere erano rifinite finemente nel senso che le superfici erano trattate in maniera molto molto precisa erano lucidate quasi a specchio e spesso venivano anche in qualche modo trattate con delle cere rosate per dare ancora maggior somiglianza alla pelle umana ma adesso passiamo ad un altro aspetto cerchiamo di comprendere come Canova organizzava aveva organizzato la sua bottega e tecnicamente arrivava poi all'esecuzione delle sue opere per le prime opere Canova lavorava da solo scolpiva e praticamente modificava quindi i particolari dettagli mano a mano che andava avanti e che si formava sempre meglio l'immagine finale che voleva ottenere in seguito quando però cominciarono ad arrivare le commesse importanti e ne arrivavano anche tante lui si dovette dotare di assistenti e quindi dovette anche organizzare il proprio ciclo di lavoro nella bottega quindi vi era proprio una tecnica consolidata per arrivare all'esecuzione finale delle opere Canova in questo modo si riservava per se stesso l'attività o quasi esclusivamente l'attività creativa magari gli ultimi ritocchi e basta mentre il lavoro più importante quello duro quello insomma materiale veniva affidato ad abili artigiani che lavoravano con lui in realtà che cosa faceva Canova Canova partiva dall'ideazione quindi dal disegno dal disegno poi realizzava un modello che era in creta quindi il modello veniva plasmato e dal modello in creta quindi già una statua bella e buona insomma praticamente anche se magari in formato ridotto gli assistenti realizzavano un calco di gesso e quindi ottenendo la stessa scultura ma questa volta in materiale di gesso è chiaro che l'attività di scolpire è molto più dura e pesante di quella di plasmare l'argilla quindi il lavoro di plasmatura era molto più semplice più veloce e dava modo all'artista di controllare le forme senza potersi sbagliare perché la creta permette anche di ritornare indietro di togliere o di aggiungere se serve materia mentre una volta tolta con il marmo la materia questa non poteva più essere attaccata quindi il pezzo era evidentemente in caso di errore definitivamente compromesso in questo modo appunto con questa tecnica si evitavano quindi proprio gli errori e si arrivava all'opera finale in maniera molto precisa realizzato quindi un modello in gesso questo modello veniva contrassegnato con tutta una serie di chiodini che erano i punti significativi cioè i punti in cui c'erano delle rientranze piuttosto delle sporgenze e così via dopodiché con dei fili a piombo si accostava innanzitutto si accostava il blocco di marmo alla statua finale che doveva essere realizzata e con dei fili a piombo si faceva capitare un filo a piombo esattamente su un puntino ad esempio del viso come vediamo qui ovviamente questi chiodini erano sul calco di gesso e simmetricamente un secondo filo a piombo doveva cadere sul blocco di marmo quindi veniva tolto materiale fino a quando il secondo filo a piombo non si trovava nuovamente libero e toccava appena appena o sfiorava appena appena il pezzo di marmo si realizzava quindi una sorta di statua appena sbozzata cioè dove le forme erano già ormai definite ma non erano rifinite gli ultimi tocchi venivano affidati ovviamente a Canova al grande maestro che appunto arrivava per dare la finitura il tocco finale questo metodo di lavoro consentiva anche un'altra un'altra operazione consentiva di replicare la stessa scultura in marmo quante volte lo si desiderava per cui per cui era possibile che la stessa opera potesse essere replicata più volte magari perché era richiesta da più persone da più committenti per quello che riguarda l'originalità dell'opera questa era ovviamente assicurata in quanto l'ideazione era di sempre dell'artista ma anche i tocchi finali erano dell'artista quindi era garantita anche l'originalità dell'opera come come abbiamo prima accennato poi le sue opere in marmo venivano rifinite con un grado di finitura elevatissimo levigate fino a quando il marmo non diventava totalmente liscio e quasi traslugito sembrava quasi trasparente proprio in questa finitura così delicata che fa sì che ci sia tutto il pregio di Antonio Canova infatti le sue opere proprio per questo grado di finitura così elevato accolgono la luce con dei lievi passaggi chiaroscurali cioè creando delle ombre molto delicate con dei tenui passaggi dei graduali passaggi dalla luce più accesa all'ombra più profonda